Non mi manco da molto, per me. Attenzione, dietro, grazie. Non mi senti a farlo, Presidente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Questa è la scuola. Questa è la scuola. Prima non lo prende. Va bene, scusi. Attenzione. Sembra la prova del cuore. Esatto. Guardate tutti qua, per favore. Sì, per ambito. Ci siamo. Stai, 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 che divertente. Stai lì, ragazzi. Non è più pesca, pesca. È frullato. Ci sono basilico. Sì, no, non ci sarà anche il sale.